ragazzi buongiorno oggi vediamo il pistols assistito con le nostre cinghie in sospensione esercizio importante per andare a lavorare con le gambe allora afferriamo le maniglie portiamo portiamo diciamo con le mani verso il petto da questa posizione stacchiamo un piede e da qua scendiamo mantenendo sempre verticale il ginocchio e poi di qua spingo con forza e mi risollevo quindi mi abbasso si distendono le braccia e poi vengo su ovviamente abbiamo l'assistenza delle braccia più tiriamo con le braccia più l'esercizio diventerà facile ecco cercate di tirare il giusto necessario per riuscire a risollevare se vogliamo rendere l'esercizio più difficile potremo andare a lavorare solo con una maniglia quindi mi posiziono da qua vengo giù e poi tiro in questo modo qua quindi con l'assistenza di un solo braccio esercizio veramente difficile se eseguito con poco aiuto delle braccia che vi permetterà di lavorare in maniera importante con i glutei e muscoli delle cosce e se ora vuoi allenarti con me puoi ti ho preparato una guida con 10 programmi esclusivi per l'allenamento in sospensione 10 programmi che ti permetteranno di centrare grandi risultati ti potrai allenare in casa al parco in palestra ti lascio qua sotto il link ti aspetto sul mio sito